Bentornati con il nostro consueto appuntamento del lunedì in cui facciamo il punto della situazione riguardo il campionato del Lecce. Dunque, ieri si è conclusa la settimana giallorossa, sette giorni di campionato che potremmo definire agrodolce. Vediamo perché. La settimana si è aperta mercoledì scorso con il confronto il Via del Mare fra Lecce e Cittadella, terminato per 2-1 a favore dei Veneti. Una prestazione brutta da parte dei giallorossi, una partita nata male e cominciata peggio. Nei primi 30 secondi la squadra di Marco Baroni prende quel gol a freddo con Mirko Antonucci, l'ex trequartista della Roma, oggi in forza il Cittadella, che a fredda Luciani con un dribbling e fulmina Gabriel. Lecce prova a reagire, infatti pochi minuti dopo colpisce una traversa con Gabriel Strafezza. Sulla ribattuta successiva Listowski non riesce a indirizzare il rete. Dunque, la partita, il primo tempo prosegue senza particolari emozioni. Il secondo tempo si apre con il raddoppio dei Veneti, poco dopo abbiamo il raddoppio dei Veneti, a causa dell'errore dell'altro centrale difensivo dei Salentini, Alessandro Tuglia, che spalanca le porte la via del gol, anzi un'autostrada a Tunkara, che tutto solo a tu per tu davanti a Gabriel e non sbaglia. Il Lecce non abbiamo ulteriori emozioni subito dopo. La partita si riaccende però nel finale, dove il Lecce riesce ad accorciare le distanze con Massimo Coda e poi ha altre occasioni dove ha la possibilità di portarsi sul 2-2. L'opportunità di Ragusa, piuttosto che l'altra capitata sempre a Massimo Coda, su cui il portiere Castrati compie un intervento prodigioso e mura la propria porta. Dunque la partita finisce per 2-1 a favore del Cittadella, prima sconfitta stagionale per il Lecce in casa, sconfitta meritata al netto delle occasioni che comunque ci sono state, la prestazione del Lecce comunque non è stata delle migliori. Contro un avversario che con grande cinismo e cattiveria riesce a portare a casa i tre punti. Dunque ieri invece il Lecce è stato impegnato, è stato di scena a Monza, contro potremmo dire uno squadrone allestito a son di milioni da Adriano Gagliani, proprietario dei Biancorossi, come sapete, e l'ex premier Silvio Berlusconi. Dunque il Monza è una squadra allestita per ambire alla promozione diretta in Serie A. Dunque partita vivace, primo tempo combattuto da entrambe le formazioni, la partita si è aperta con l'opportunità per il Monza capitata a Leonardo Mancuso, ma l'ex centravanti del Pescara spara alto. Il Lecce por risponde grazie alla giocata di Marcin Listoski, il quale con una conclusione di desto coglie il palo più lontano. Subito dopo il Lecce passa in vantaggio, è un'azione abbastanza convulsa, prima abbiamo il tiro di coda bloccato da Di Gregorio, sulla ribattuta si avventa Gargiulo, il quale durante l'azione va a colpire il portiere avversario. La palla sulla palla vagante si arriva a Listoski, il quale è freddo nel concludere e bucare la porta avversaria. Il gol inizialmente compagliato viene poi annullato dall'arbitro Doveri dopo un check al VAR. Probabilmente il direttore di gara ha ritenuto falloso il contatto fra Gargiulo e Doveri. Poi abbiamo qualche minuto dopo il Monza ha due opportunità nel giro di un minuto, la prima sempre con Mancuso, ma la retroguardia Salentina intercetta e manda in corner. e sugli sviluppi del corner conseguente arriva poi Carlos Augusto che è spara alto. Dunque la partita poi prosegue, con grande cattiveria da parte. Non ci sono particolari emozioni, però tuttavia l'agonismo non manca da parte di entrambe le formazioni. Dunque poi nel secondo tempo abbiamo il calcio di rigore concesso ai giallorossi e per un intervento con la mano di Gabriel Paletta, capitano dei Brianzoli, coda dal dischetto non sbaglia e porta in avanti i suoi. Nella seconda frazione di gioco poi è abbastanza combattuta da entrambe le formazioni. Abbiamo tante opportunità sia da una parte che dall'altra. Il Monza va spesso vicino al gol con i suoi attaccanti, ma Gabriel compie dei miracoli. Il Lecce anche, il Lecce anche non sta a guardare, tant'è vero che nei minuti finali realizza anche il 2-0 con Pablo Rodriguez, successivamente ad una giocata magistrale di Massimo Coda. Anche in questo caso il gol viene annullato dall'arbitro Doveri dopo un check al VAR a causa di un fuorigioco da parte dello spagnolo. Dunque una partita equilibrata, tutto sommato combattuta sia dal Monza che dal Lecce. Gli ospiti però sono stati cinici nel capitalizzare tutte le opportunità avute e nel soffrire, sono stati bravi nel soffrire appunto durante le avanzate bianco-rosse. Dunque Lecce che vince, si riprende il primato della classifica a pari merito con la Cremonese, meritatamente. Niente, questo è quanto riguarda la settimana del Salentini. Ci vediamo il prossimo lunedì dove andremo un attimino ad analizzare sinteticamente le partite del Lecce. Buona settimana.